Allora, è facilissimo parlare dell'attore di oggi, potrei dire semplicemente Leonardo Di Caprio e già voi sapete tutto e sapete sicuramente la maggior parte delle cose perché basta vedere un film di Leonardo Di Caprio per capire di che tipo di attore stiamo parlando e secondo me oggi non parliamo di un tipo di attore, oggi parliamo dell'attore moderno, di come deve essere l'attore moderno e Leonardo Di Caprio è l'esempio lampante dell'attore di oggi, cioè deve essere così, deve essere come lui lavora, come lui si approccia al personaggio come lui riesce a evolversi in maniera disumana in ogni pellicola, ma per poterlo fare assolutamente dobbiamo fare dei passi indietro Innanzitutto Leonardo Di Caprio nasce l'11 novembre 1974 a Los Angeles, il cognome richiama chiaramente origini italiane tant'è vero che attraverso il rumors che circolò nel 1998 si venne a sapere l'origine dei bisnonni Salvatore Di Caprio e Rosina Casella, originari di Napoli poi si sono trasferiti negli Stati Uniti d'America per cercare fortuna come molti degli italiani facevano soprattutto a fine ottocento o nei primi del novecento durante o dopo la guerra diciamo variava da situazione di situazione in situazione per trovare fortuna dopo che l'Italia stava vivendo una sorta di crisi dopo l'unità d'Italia che si era raggiunta nella seconda metà dell'ottocento e questo portò poi alla nascita di Leonardo Di Caprio quindi il cognome diciamo così è stato tramandato attraverso il tempo allora di Leonardo Di Caprio io potrei nominare un film a caso e voi sicuramente l'avete visto e io partirei da prima che nasca il binomio Pezzulli Di Caprio in Italia Francesco Pezzulli è il doppiatore ufficiale di Leonardo Di Caprio figuratevi che Pezzulli e Di Caprio si levano veramente di pochissimo perché credo che Francesco Pezzulli abbia uno, un anno in più o un anno in meno di Leonardo Di Caprio quindi sono proprio cresciuti insieme doppiatore e attore tra l'altro in un'intervista Pezzulli ha detto che ancora entrambi non si sono conosciuti ma che spera di poterlo conoscere il prima possibile allora io mi sono preparato la filmografia di Leonardo Di Caprio perché vorrei veramente analizzare di passo dopo passo quella che è stata la sua carriera però il primo ricordo come dicevo prima del binomio è Che ho io è un film in cui Leonardo Di Caprio non mi trascinò nonostante facesse due ruoli, una parte buona e una parte cattiva quando interpretava nella maschera di ferro il re di Francia forse lì mi trascinava molto più il personaggio di D'Artagnan e dei tre moschettieri tra l'altro è presente anche Gérard Depardieu all'interno di questa pellicola che ha la vita piccola e mi emozionò molto devo dire e tra l'altro è davvero un bel film poi un ruolo incredibile io ho la biografia davanti perché non si può fare a meno di stare attento a ogni film che ha fatto perché ogni film ha portato un approccio al ruolo come dicevamo incredibile in Poeti dall'inferno nel 1995 Leonardo Di Caprio ha 21 anni e interpreta questo ruolo in maniera magistrale tra l'altro è anche omosessuale se non vado errato nell'interpretazione ed è incredibile incredibile lui ha studiato a Lucla nei Stati Uniti e poi si è dedicato alla recitazione quindi ha cominciato molto tardi cioè diciamo dopo i 15 anni ma inizio dagli spot televisivi dalle piccole comparse nei film anche all'interno di una soppopera e poi qua siamo già all'interno del cinema 21 anni cinema mondiale poi fa Romeo e Giulietta nel Romeo più Giulietta di William Shakespeare è bello questo film è molto bello sapete perché? perché questo film mantiene il linguaggio originale di Shakespeare però ambientandolo ai giorni del 1996 ed è molto interessante come lettura ed è ancora una volta un grande Di Caprio forse lì non entusiasma proprio come in Poeti dall'inferno e anche meno rispetto alla Maschera di Ferro che comunque viene poi dopo il Titanic anche se esce nel 98 se non vado errato e nel 1997 invece la data di produzione e distribuzione uscita di Titanic di James Cameron è stato in testa fino come film con più incassi della storia fino all'uscita di Avatar che è sempre dello stesso James Cameron e poi fino a quando Avengers Endgame dei fratelli Russo del 2019 sembra una vita fa il 2019 del 2019 riesce a superare tutti allora in Titanic abbiamo il primo Colossal che viene interpretato da Leonardo Di Caprio Di Caprio giovanissimo ma come dicevamo in Poeti dall'inferno è una performance ancora migliore probabilmente Titanic regala anche a lui l'amicizia con Kate Winslet con cui si frequenteranno non per stare insieme diciamo che non sono una coppia ma sono una coppia di amici si frequenteranno e saranno amici per tanto tempo l'interpretazione è davvero ottima e lui insieme a Kate Winslet trascinano e segnano iconicamente un'epoca con Titanic c'è poco da dire chi non ha visto Titanic se lo vado immediatamente a guardare mi ricordo che io adesso non l'ho più non so neanche più dove sia finita avevo anche la cassetta di Titanic chi non aveva o Titanic per chi vuole dirlo in americano chi non aveva la cassetta di Titanic secondo me era uno sfigato più sfigato di quelli che non l'avevano visto almeno avevano la cassetta poi ogni anno Titanic lo fanno nelle reti mediaset tra l'altro addirittura diviso in due parti ragazzi dura tanto sì però è da vedere tutto insieme sicuramente nel 98 come avevamo detto è come primo ricordo che ho io e c'è la maschera di ferro con la regia di Roland Wallace nel 98 giovanissimo sempre nel 98 dopo la maschera di ferro gira un film con Woody Allen molto spesso ora non so se tutti sanno questa cosa chi lavora con Woody Allen solitamente si fa abbassare il budget e prende il minimo il minimo sindacale pur di lavorare col maestro della sceneggiatura e della regia Woody Allen soprattutto alla fine degli anni 90 dove era uno dei registi più acclamati anche dalla dalla critica ma anche dagli altri attori che lo frequentavano c'è sicuramente da segnalare poi un inizio importante ci sono diversi film con cui prende parte con ruoli minori ma poi voglio segnalare due film che escono entrambi nel 2002 uno che comincia a dare il là a un altro binomio oltre quello Pezzuli Di Capri in Italia ma al binomio la regia di Martin Scorsese e Leonardo Di Capri come attore principale questo primo film è Gangs of New York consigliatissimo da vedere e se volete vedere invece una commedia qui vediamo già come un attore già vediamo come un attore giovanissimo che si approccia al ruolo giusto si va a approcciare al ruolo poeti dall'inferno Romeo e Giulietta Titanic poi lo vediamo in Gangs of New York di Martin Scorsese i classici diciamo così di Martin Scorsese molto gangster movie diremo noi e poi fa una commedia bellissima con Tom Hanks che prova a prendermi con la regia di Steven Spielberg ragazzi riesce a fare quello che vuole The Aviator sempre di Martin Scorsese nel 2004 non è un film che apprezzo tra i più di Martin Scorsese che è un regista meraviglioso se vi piacciono i gangster movie poi credo che non ce ne siano altri d'altro Origini Siciliane per Martin Scorsese credo che fosse di polizi generosa ai nonni in questo caso di Martin Scorsese che emigrarono con Martin Scorsese dopo una pausa di due anni praticamente ogni due anni facevo un film con Scorsese perché Gangs of New York The Aviator e The Departed il bene e il male ragazzi ci stanno Matt Damon e Jack Nicholson anche mamma mia che roba del 2006 mamma mia ragazzi questo lo dovete vedere assolutamente io adoro Leonardo DiCaprio probabilmente si sta sentendo e poi ci sono dei lavori così così come Blue Diamond e Nessuna Verità Body of Lights di Ridley Scott quindi lavoro addirittura anche con Ridley Scott nel giro di dieci anni praticamente già aveva lavorato con i più grandi registi del mondo e di tutti i tempi Revolutionary Road con Sam Mendes tra l'altro credo che Sam Mendes sia lo stesso regista di 1917 un film che è stato candidato agli Oscar la stagione passata ed è molto bello torno a lavorare con Martin Scorsese uno dei miei film preferiti che è assolutamente Shutter Island a fianco di Mark Ruffalo e di altri attori di calibro internazionale mi sfugge il nome dei due medici che ci sono all'interno dell'isola ma sono due attori di livello assoluto se non li ricordate mi dispiace che non me li ricordo ma sono veramente due che hanno fatto la storia del cinema e di Hollywood poi esce oltre che con Shutter Island c'è anche Michelle Williams ovviamente che è una delle attrici migliori del momento anche nel panorama hollywoodiano il film Onirico Inception ne abbiamo parlato quando parlavamo di Tom Hardy con l'uscita nel 2010 lavora con Clint Eastwood e poi con Django Unchained che forse il film è più pop splatter definito di di Quentin Tarantino lo vediamo in una performance da villain assolutamente pazzesca fuori dal comune ragazzi non potete capire come cavolo come cavolo si fa a fare un ruolo del genere e a non darlo a Leonardo DiCaprio ragazzi l'interpretazione quando prende il teschio di Old Ben e lui si taglia la mano ormai risaputissima questa cosa e lui si taglia veramente la mano e porta ancora avanti la scena l'attore non navigato navigatissimo ricordiamo Leonardo DiCaprio è nato nel 1974 è giovanissimo ci mettono una vita certi attori a poter fare dei lavori del genere e lui questa crescita che ha avuto praticamente da sempre fin da piccolo all'interno del set l'ha portato a realizzare delle cose del genere incredibile e la scena del personaggio che interpreta con Mr. Candy come direbbero i personaggi all'interno dell'opera di Tarantino di Django Unchained è sicuramente di livello assoluto un livello assolutamente assoluto scusate il gioco di parole poi c'è un altro ruolo molto bello che gli garantisce gli garantisce scusatemi gli garantisce un'altra nomination agli Oscar ed è il grande Gatsby ragazzi c'è da sottolineare che qua siamo nel 2013 con il grande Gatsby siamo partiti dal 1995 Leonardo DiCaprio non ha vinto neanche mezzo premio Oscar è ancora il meglio dove venire perché quando gira The Wolf of Wall Street voglio dire ci sono tre ore di film dove non c'è un protagonista non c'è un attore che per un secondo regga a fianco di DiCaprio anche Margot Robbie che è bravissima all'interno di questo ruolo ma non riesce mai a reggerlo lui sovrasta tutti per tre ore e tiene da solo a un ritmo sfrenato assurdo pimpante incredibile tiene da solo questo film e c'è poco da dire sempre la regia di Martin Scorsese ragazzi DiCaprio Scorsese funzionano molto meglio tra l'altro stanno lavorando un nuovo film che speriamo di poter vedere molto presto ancora è in fase di preproduzione non c'è del girato ancora ed è con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro non sappiamo altro ed è The Killers of the Flower Moon sembra già qualcosa di interessante soprattutto perché c'è la regia di Scorsese nel 2013 fa The Wall for Wall Street come dicevamo ma l'Oscar arriva due anni dopo ragazzi un lavoro di due anni dicono che sia stato un contentino questo premio Oscar ed è The Revenant il re di vivo di Ignarito con Tom Hardy lo dice mammo anche nei podcast precedenti riesce a vincere l'Oscar per uno sforzo fisico disumano per un cambiamento anche fisico molto profondo molto interessante che Christian Bale no Christian Bale levati no perché ha fatto davvero dei cambiamenti incredibili Christian Bale ma se lo merita se lo sarebbe meritato diverse volte guardate quello di The Wall for Wall Street glielo porta via Matthew McConaughey con Dallas Club e ragazzi il paragone non regge fidatevi ecco perché dico certe volte che l'Oscar non va a delineare quello che è veramente un attore un attore che ha vinto l'Oscar o che non l'ha vinto non va a indicare per forza quello che quello che si è e poi c'era una volta Hollywood c'era una volta Hollywood è un film contrastante controverso allora vi spiego subito perché c'è chi l'ha definito criticalmente una sorta di autoerotismo di Tarantino sì è vero all'interno della perlicola ci sono tantissimi easter egg tantissimi richiami a quelli che sono i gusti di Tarantino le vecchie opere le vecchie opere di Tarantino e tutto il lavoro che vi è intorno ed è chiaro che chi non apprezza a fondo Tarantino difficilmente apprezza c'era una volta Hollywood tra l'altro è un film che porta Brad Pitt a vincere Golden Globe come miglior attore non protagonista premio Oscar come miglior attore non protagonista e devo dire strameritato perché interpreta il ruolo veramente molto molto bene Leonardo DiCaprio in questo film fa una cosa allora partendo dal presupposto che il film può essere apprezzato e non può essere apprezzato chiaro chiaro non è che dobbiamo rincorrere qualcosa che non si può rincorrere e allora cosa succede DiCaprio ha una scena dove deve interpretare il ruolo di un personaggio questo personaggio deve interpretare un ruolo quindi Leonardo DiCaprio come fosse in Cepsion adesso ci vuole in questo caso scende di due livelli nel senso che prima interpreta il suo personaggio all'interno della pellicola poi il suo personaggio interpreta un personaggio all'interno della pellicola e questo è un lavoro ragazzi assurdo soltanto il migliore al mondo lo può fare soltanto chi è veramente bravo istruito attento vero nell'arte della recitazione può fare così nel 2021 con Adam McKee uscirà Don't Look Up che è uno dei prossimi film una commedia che vedremo con Leonardo DiCaprio è un cast pazzesco si preannuncia per questa commedia e speriamo che in questo 2021 i cinema aprono c'è da aggiungere oltre alla filmografia pazzesca i ruoli magistralmente interpretati da DiCaprio che è un attivista sotto diversi aspetti fin da quando era piccolo tra l'altro ha conosciuto anche Greta Thunberg hanno anche diciamo così condiviso degli ideali insieme è un attivista per la salvaguardia del pianeta nei confronti del cambiamento climatico e dell'inquinamento dovuto ai danni fatti dall'uomo soprattutto nei confronti del mare se andate a spulciare per esempio il profilo Instagram di Leonardo DiCaprio non troverete un attore che si mostra attraverso le sue immagini attraverso i selfie ma per lo più sono denunce dal punto di vista climatico e dell'inquinamento ambientale quindi questo è Leonardo DiCaprio io mi sento di aggiungere poco ho detto veramente tantissimo stavolta perché non riesco a trovare qualcuno che sia all'altezza in questo momento soprattutto come dicevo nel ruolo di Django in Wall for Wall Street potrei ripeterli di nuovo tutti e non ne vale la pena non ne vale cioè vale la pena vederli più che ascoltare me quindi andatevi a vedere Leonardo DiCaprio e se volete vedere volete sapere come si fa l'attore sicuramente non troverete nessun altro che possa mostrarvelo così come ve lo mostra lui interpretando questi ruoli magnifici pazzeschi fondamentali per chi vuole fare questo mestiere o per chi ama il cinema che vuole fare